In Piemonte gli interventi dell'elisoccorso del 118, le basi d'atterraggio sono ormai 60 in regione a cui se ne aggiungeranno altre due entro l'anno. Sono alcuni numeri dell'attività di gestione dell'emergenza illustrata dalla responsabile della rete regionale, la dottoressa Egle Valle, dall'assessore Antonio Saitta che ha definito il sistema 118 un ospedale volante con i suoi 250 medici, 500 infermieri e 20.000 volontari. Il maggior numero di richieste è per i codici verdi, mentre i codici rossi sono il 5,2%, i traumi sono il 23%, dunque la maggioranza, mentre i luoghi di intervento per il 63% sono in casa, per il 14% sulle strade. Sentiamo. Il mondo del 118 è un mondo non sempre noto. Io continuo a utilizzare questa immagine, una sorta di ospedale volante. Abbiamo 250 medici, 500 infermieri, 20.000 volontari, fortemente collegato con gli ospedali, persone di grande specializzazione che devono gestire anche in situazioni complesse. È sufficiente andare nella cerca dell'operativa del 118 per rendersi conto del grande lavoro che viene fatto e anche della capacità di rapporto che hanno con le persone che hanno dei problemi. Il dottor Roberto Vaca è responsabile dell'isoccorso. Naturalmente quando si pensa al 118 la prima immagine che viene in mente è l'elicottero. Allora, a che punto siamo? Qual è lo stato degli interventi? E ci sono anche delle novità importanti? Allora, nell'ultimo anno abbiamo osservato un aumento degli interventi fatti con il mezzo elicottero. C'è stato comunque un incremento di attività sia per quanto riguarda i mezzi di soccorso di terra che per l'elisoccorso. Ricordo che l'elisoccorso è un mezzo ad integrazione del soccorso di terra e quindi ovviamente ci è utile tutte quelle volte in cui abbiamo la necessità di intervenire in certi luoghi o per centralizzare i pazienti nei cosiddetti centri abba regionali. Da due anni vogliamo di notte, quindi il servizio di elisoccorso è stato implementato dell'attività notturna che in questo momento effettuiamo sui campi sportivi illuminati grazie ad una norma europea che ci consente di volare in questo modo, quindi utilizzando i campi sportivi illuminati come aree di decollo e atterraggio. In questo momento siamo a 60 siti notturni su tutto il territorio regionale, una rete che si sta ampliando grazie anche alla disponibilità delle amministrazioni comunali. In più ci sono tecnologie straordinarie, questa della geolocalizzazione di ogni chiamata, quindi ancora prima di dire io sto in via tra i dettagli, viene individuato il paziente o il parente in quel posto e immediatamente viene scelta in mezzo che deve andare in quel luogo, quindi non si perde assolutamente tempo. In più ci sono tecnologie nuove, che molto spesso sono tecnologie che derivano probabilmente dall'aeronautica, i fari per poter illuminare, quindi in evoluzione per questo senso. I tempi di intervento, allora in Piemonte a che tempi siamo? I tempi del Regione Piemonte, ripeto, nelle criticità medio-alte, quindi i codici gialli e i codici rossi, sono quasi sempre rispettati e sono quelli che riporta il decreto ministeriale degli 8 in zona urbana perché? Perché queste sono urgenze o emergenze e devono avere una risposta subito. La risposta subito potrebbe non esserci il momento in cui il mezzo è impegnato e allora vengono studiate tutte quelle strategie per poter medicalizzare il paziente il più velocemente possibile. Questo per dire che il momento in cui io non ho la possibilità di avere il mezzo medicalizzato, quindi di mandare un medico e un infermiere nel luogo dove l'utente ha una necessità ad alta criticità, devo trovare il modo di far arrivare il più velocemente possibile questo paziente in un presidio ospedaliero. Il volontariato è quello che muove i mezzi, cioè le ambulanze non si muoverebbero se non ci fosse il volontariato, perciò diciamo che è un elemento essenziale nella vita del 118. Noi, perché ci siamo dentro dall'inizio, perché l'abbiamo creato assieme con la regione a suo tempo, riteniamo che sia uno dei migliori d'Italia, però parliamo perché ci siamo dentro noi. Questa caratteristica del volontariato però permette che ci sia ambulanze molto decentrate, anche in paesini piccoli ci sia una postazione di ambulanza. E poi la cosa essenziale è che è molto rigorosa la formazione dei volontari, cioè noi abbiamo già sin dall'inizio sempre voluto che la formazione fosse alla base dell'intervento, cioè non bastava essere capaci di guidare un'ambulanza, non bastava essere capaci di utilizzare magari un ambo, ma man mano che andiamo avanti, adesso con le nuove sfide di defibrillatori, i volontariati sono sempre più preparati e anche le ambulanze di base per andare poi ai rendezvous con l'elicottero, cominciano a avere, diciamo, cominciano. Hanno sempre avuto personale preparato, ma adesso ancora di più perché sono in grado di fare anche delle manovre un po' più complesse. Gli interventi sono numerosi, il servizio è di buona qualità e devo dire per quello che vedo a livello nazionale siamo avanti, sono orgoglioso del 118.